Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con le attratti verso nord per traffico intenso tra Aglio e Badia e tra B1 con planari Firenze Nord e Aglio. Sempre in A1 rallentamenti ancora una volta per traffico anche tra Incisa Reggello e Firenze Soda ancora una volta in direzione nord. Ci spostiamo in Fipilì, anche in questo caso un chilometro di coda stabile per traffico tra Ginestra e La Strassigna per chi viaggia verso il capoluogo. Uno sguardo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione tra Rufina e Scopeti, il treno 18-943 Firenze e Borgo San Lorenzo sta viaggiando con 24 minuti di ritardo. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!